What's On! What's On! Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce di protagonisti. What's On! Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna in sala Too Short Too Way, tante prima spazio Piemonte, rassegna dedicata ai cortometraggi piemontesi, che segna la prima fase della ventunesima edizione del Glocal Film Festival, in programma dal 10 al 14 marzo 2022, al Cinema Massimo di Torino. In attesa del festival, venerdì 4, domenica 6 febbraio, i 50 corti che hanno risposto alla call della storica sezione competitiva del Glocal Spazio Piemonte, si mostreranno al Cine Teatro Baretti, suddivisi in 10 appuntamenti, venerdì e sabato alle ore 19, 20 e 30 e 22, mentre le proiezioni domenicali saranno alle 16 e 30, 18 e 30, 20 e 30 e 22 e 30. E le gie delle cose perdute al Teatro Oliviero di Saluzzo, questa sera per la stagione teatrale del Comune, con la compagnia Zero Grammi, una riscrittura del romanzo I poveri dello scrittore e storico portoghese Raul Brandao. Ottavo appuntamento della stagione al piccolo teatro comico con Margherita Antonelli e il suo spettacolo Lezioni di Filosofia. Questa sera e domani, alle ore 21, torna sul palco l'Iran al stabile Sofia, donna delle pulizie, apparsa per la prima volta a Zelig nel 1997. Per il capodanno cinese, una visita speciale alla scoperta delle cineserie della palazzina di caccia di Stupinigi. La Fondazione Ordine Mauriziano organizza una visita speciale alla scoperta delle influenze orientali presente all'interno del percorso di visita. L'appuntamento è per domenica 6 febbraio. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto in regia a Rosario Perez.